Buongiorno, ben trovati all'appuntamento con il primo notiziario della mattina di canale 81 Lazio. Iniziamo dalla cronaca. Hanno interessato anche il litorale, in particolare le città di Anzio e di Nettuno, le operazioni ad alto impatto pianificate dalla Questura di Roma su indicazione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nei giorni scorsi gli agenti del locale commissariato, con la collaborazione dei colleghi del reparto automobile, hanno concentrato la loro attenzione in particolare sui luoghi di svago e della Movida, per contrastare la commissione di reati predatori come furti e rapine, l'abuso di alcol e il consumo di sostanze stupefacenti. Due gli arresti eseguiti dalla polizia, uno dei quali ha riguardato una persona, Nettuno, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per cumulo di pene relative a reati di detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza pubblico ufficiale e porto da armi. Un'altra persona è stata invece arrestata ad Anzio e ristretta ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia. È stata sgomberata l'occupazione iniziata ieri mattina a Via Tiburtina, in zona Rebibie. I movimenti per il diritto all'abitare, gli studenti media universitari di Ose, Cambiare Rotta e Asia USB, intorno alle 6 avevano fatto irruzione in una ex scuola superiore, abbandonata da almeno 10 anni, rivendicando l'azione in vista della manifestazione nazionale di domani contro il governo Meloni per lo stop alle spese militari e l'incremento delle spese per la sanità pubblica e l'emergenza abitativa. Circa 90 famiglie in emergenza si erano radunate di fronte all'ex istituto professionale Sibilla alle Ramo, a pochi metri dalla stazione Rebibie della Metro B. Ma dopo le 13 il concentramento di forze dell'ordine è iniziato ed è cominciato anche lo sgombero. Per protesta coloro che occupavano la scuola sono scesi in strada e hanno bloccato per qualche ora la via Tiburtina. Il garante per la privacy ha sanzionato per 176.000 euro Roma Capitale e per 239.000 euro Ama, società in house a cui è affidata la gestione dei servizi cimiteriali, per aver diffusi i dati delle donne che avevano affrontato un'interruzione di gravidanza indicandoli su targhette apposte sulle sepolture dei feti presso il cimitero Flaminio. Ammonimento anche per l'ASL Roma 1. La vicenda era salita agli onori della cronaca nell'ottobre del 2020. Secondo la disciplina di riferimento i prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane possono essere sepolti solo su richiesta dei genitori, mentre la sepoltura è sempre prevista per i nati morti. Per i prodotti abortivi invece la sepoltura viene comunque disposta dalla struttura sanitaria dopo 24 ore anche senza richiesta dei genitori. Oltre ad aver applicato la sanzione nei confronti di Roma Capitale e Ama, il garante ha pertanto ordinato all'azienda sanitaria di non riportare più le generalità in chiaro sulle autorizzazioni al trasporto e alla sepoltura e sui certificati medico-legali. Parliamo ora dei 100 giorni, i primi 100 giorni del mandato di Francesco Rocca alla regione Lazio, lavorare a testa bassa ma parlando ai cittadini con i fatti. Con queste parole il governatore del Lazio ha raccontato i primi 100 giorni della sua giunta. Amo lavorare e amo i fatti concreti. Hai sordito accompagnato da tutti gli assessori. Un bilancio tracciato con orgoglio, 256 delibere in 19 sedute di giunta, 97 degreti, 3 memorie di giunta e un atto di indirizzo. In questi primi 100 giorni sono 800 milioni di euro di impegni presi con la nostra comunità regionale, escluso il disavanzo regionale. Oltre alla sanità e al debito Rocca ha immediatamente messo sul tavolo i temi scottanti per la cittadinanza e ha annunciato che a giorni ci sarà l'incontro definitivo con il sindaco Gualtieri per la ZTL e fascia verde. Dopo 60 giorni di pioggia, nei primi sei mesi dell'anno, nella tuscia sembra essere arrivata definitivamente l'estate. Le temperature infatti sono in continuo rialzo. Il 22 giugno la temperatura percepita a Viterbo ha toccato addirittura i 39 gradi, dato che ha proiettato la città dei Papi tra le città più calde non solo d'Italia ma nel mondo, superando addirittura Sharm el Sheikh e il Cairo. La redazione di Scadi G24 ha infatti comparato le temperature registrate nelle città italiane più calde con quelle di altri paesi, facendo emergere che Viterbo è la settima località più calda del mondo e la quarta più calda d'Italia. Sempre a Viterbo ieri è stato fatto il taglio del nastro dell'edizione zero dell'iniziativa Viterbo Villaggi Equestre. Si tratta di una manifestazione gratuita nata dalla sinergia tra la Federazione Italiana Sport Equestri e il Comune di Viterbo e che si avvale del supporto fornito da alcune associazioni ipiche della Tuscia. L'iniziativa si ripropone di far conoscere ai ragazzi il mondo che ruota intorno all'animale che fin dagli albori della storia ha accompagnato il cammino dell'uomo attraverso la sua evoluzione. I protagonisti saranno i ragazzi provenienti dai grest cittadini, dalle parrocchie e alcuni ragazzi speciali dell'associazione di volontariato età beta del capoluogo. Il programma dei tre giorni prevede un percorso allestito al parco dove i ragazzi potranno conoscere il mondo dei cavalli attraverso un'esperienza a 360 gradi attorno alla storia, la cura e l'approccio più corretto da tenere con il nobile quadrupede. Con questa iniziativa di Viterbo chiudiamo questa edizione del telegiornale, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo l'appuntamento a più tardi.